Ti qui che job benvenuti capita tante volte in periodi di crisi come questo di dire o di sentire dire basta non ne posso più vado a lavorare all'estero ricomincio una nuova vita e in effetti le possibilità di lavoro all'estero non mancano e abbiamo qui con noi per spiegarci proprio un esperto di mobilità internazionale che è il dottor Bernd Fass benvenuto grazie grazie dottor Fass di Euroculture che è un'associazione se non sbaglio che da parecchio tempo si occupa anche di mobilità internazionale per quanto riguarda il lavoro oltre che lo studio sì da oltre 20 anni operiamo da vicenza e informiamo e accompagniamo delle persone che vogliono fare una esperienza all'estero che può essere più o meno lunga magari forse da qualche settimana periodi anche più lunghi dipende sempre da quello che la persona sente di voler fare abbiamo le cose brevi di qualche settimana per chi è ancora alla scuola superiore i studenti che fanno il tirocinio e purtroppo sempre di più anche persone over 30 che ragionano su anni di lavoro addirittura emigrazione perché questa scelta di emigrare all'estero piuttosto che di andare a fare esperienze all'estero questo desiderio comunque di provare a mettersi alla prova in altri paesi allora vari motivi uno è e quello è il problema fondamentale l'italia è da tanti anni adesso è in crisi e le persone che hanno resistito sperando sperando che qualcosa succeda adesso non hanno più speranza e decidono di partire anche con l'idea di non tornare più questo però sono sempre pochi pochi vuol dire qualche migliaia non solo non sono per esempio quelli 40 mila che sono l'anno l'anno scorso arrivati in germania di questi forze con l'idea di emigrare sono un 10 15 per cento tutto il resto cerca qualcosa all'estero per non stare fermo perché questo è la cosa fondamentale andare adesso all'estero fare qualcosa impedisce che io poi nel curriculum vitae do l'impressione di essere stato fermo senza lavorare sulle mie competenze senza andare avanti a lavorare quindi anche se non c'è proprio il desiderio di trasferirsi all'estero comunque questa esperienza all'estero può diventare un'opportunità importante da giocare poi in un futuro anche in caso di rienti ma ecco all'estero ci sono davvero più possibilità e che possibilità ci sono oggi anche qua la risposta non è facile e abbiamo paesi che oggi vanno bene in primis la germania seguito dall'austria svizzera naturalmente paesi bassi danimarca questi sono già uscito dalla crisi e adesso sta per fortuna per l'italia sta arrivando anche l'inghilterra perché chiaramente molte più persone parlano inglese che è tedesco o francese eccetera e questo dà una opportunità a chi vuole mettersi sul mercato del lavoro opportunità in un'economia che cresce sono tanti anche perché al nord abbiamo un notevole impatto dell'invecchiamento vuol dire molti lavoratori escono e devono essere sostituiti c'è più meritocrazia all'estero è vero che si riesce a far carriera di più se una persona ha talento riesce a mettersi alla prova mentre invece in italia questo non è permesso allora all'estero abbiamo aziende più grandi che in italia l'italia è il paese delle piccole aziende medio piccole dove nella progressione di carriera conta molto la simpatia in un'azienda media grande di 50 500 mila dipendenti la progressione avviene per competenza vuol dire questo è il motivo principale perché al nord è più probabile di progredire per meriti che al sud non perché l'azienda è più disposta no è più grande molto più grande e ha altri organismi procedurali all'interno le richieste che a voi arrivano sono solamente per l'europa o anche per il resto del mondo quali sono i paesi oggi dove sarebbe più interessante andare a fare un'esperienza interessante sarebbe tutto il mondo se può essere per esempio il ghana il ghana l'anno scorso è cresciuto del 14 per cento record mondiale noi parliamo della cina che nessuno mai penserebbe di andare a fare un'esperienza in ghana invece infatti però è uno dei paesi più ricchi del futuro però andando fuori dall'europa si pone il problema del permesso di lavoro andando all'interno dell'unione europea possiamo decidere stasera e domani possiamo iniziare a lavorare nessuno ci deve dare un permesso di lavorare appena però andiamo fuori dall'unione europea noi possiamo lavorare soltanto se lo stato che ci accoglie ci dà anche il permesso di lavorare questo naturalmente limita moltissimo la nostra mobilità ma anche le opportunità tornando invece al mercato del lavoro com'è oggi e come sarà in futuro guardando per esempio entro il 2020 che cosa cambierà un cambiamento già in atto e il livello di know how che dobbiamo avere l'europa si sta trasformando verso una società di conoscenza vuol dire sempre più internet sempre più competenze digitali abbiamo bisogno di competenze altamente tecnologiche vuol dire serve sempre meno la persona che non si è ben formato o non si è riformata durante l'anno il ciclo della vita le richieste delle aziende si spostano in alto questo dimostrano ci sono anche i dati dell'agenzia europea per la formazione professionale che dice in 2020 circa 35 per cento dei posti di lavoro hanno bisogno di almeno della laurea quindi serve una buona preparazione per pensare comunque di misurarsi sia in italia che all'estero con il mercato del lavoro chi non ha completato la formazione chi non si aggiorna in continuazione non entra in futuro oppure rischia di perdere il lavoro entro poco tempo andare all'estero come come prepararsi che requisiti servono allora il primo requisito è la lingua questa è la parte tecnica senza la lingua io non posso vendermi perché ci dobbiamo intendere come un prodotto che si offre su un mercato del lavoro all'estero per poterlo fare io devo sapere la loro lingua se non la so io ho grande difficoltà e posso ambire soltanto ai lavori sotto la mia competenza professionale e con una paga bassa che basta appena per sopravvivere questo è il primo punto la lingua e lì abbiamo ancora molto da lavorare perché non è che gli italiani eccellano per la lingua neanche nell'inglese che molti hanno fatto sei o nove anni la seconda è la modalità di presentarsi perché l'italiano non sa presentarsi nel curriculum fa una presentazione quantitativa che ha fatto mille cose elenca tutte le piccole cose ma non si capisce più quale è il suo co-business la sua co-competenza quindi ecco sintetizzare i punti principali del proprio curriculum e conoscere molto bene la lingua mi viene a pensare nei secoli scorsi anche dal Veneto comunque oltre che dall'Italia si migrava in altri paesi a ricerca di fortuna soprattutto nei periodi di maggiore povertà andare all'estero oggi che cosa è cambiato? è cambiato che oggi possiamo fare all'estero il lavoro che abbiamo imparato svolto in Italia possiamo andare all'estero di procredire nella nostra competenza professionale possiamo di conseguenza aspettarci uno stipendio parecchio più alto e possiamo rientrare quando vogliamo perché le distanze in Europa si sono ridotte al minimo da Verona a Treviso a Venezia nell'arco di due ore possiamo coprire da Lisbona a Londra a Vassavia il tutto il raggio dell'Europa vuol dire non è più necessario di emigrare basta di cogliere in un determinato momento della vita l'opportunità avere il coraggio e andare a provare in base alla vostra esperienza tanti casi anzi quanti sono i casi che avete seguito fino ad oggi? allora non tengo conto ma visto che noi siamo impegnati mensilmente in circa 20 attività per comuni centri per l'impiego università vuol dire incontriamo 500 persone al minimo al mese di questo direi un bel 10-15 per cento poi anche grazie alle nostre informazioni alla nostra consulenza ha iniziato, concluso o sta andando in una direzione estero per poco tempo, medio tempo, lungo tempo ma non ho statistiche certo certo ma queste persone allora a chi bilancio quando tornano poi come riescono a mettere a frutto queste esperienze? questo spesso è un problema perché l'azienda veneta è piccola e spesso ha paura del curriculum che le persone si sono fatte perché gli italiani se vanno fuori si impegnano e molti fanno carriera però in strutture in dimensioni diverse che noi conosciamo qua nel Veneto vuol dire tornando poi spesso non trovano una posizione adeguata alla loro esperienza e devono rinunciare altri che non hanno fatto questi progressi di carriera si inseriscono più facilmente così c'è sempre il problema quando si va all'estero a sfruttare le occasioni in questo periodo uno fa un grande passo in avanti rientrando di volte uno deve per forza andare a Milano perché qua nel Veneto non abbiamo le dimensioni per poter sfruttare queste competenze certo, infatti l'ho visto anch'io per esperienza personale che un curriculum magari troppo ricco può a volte spaventare e questo è un problema e soprattutto qui in Veneto perché non si riesce a capire e a valorizzare magari un capitale che si può avere a disposizione un capitale umano magari brillante che invece finisce in altra realtà questo è un peccato, c'è qualche modo per superare questo gap? ci vuole tempo, ci vuole tempo che tutti dalla scuola all'impresa tutti capiscono e penso che stiamo arrivando che l'Italia ha un futuro solo quando si apre più contatti possibile a ogni livello, vuol dire ogni contatto con l'estero può significare una piccola porta per uscire da questa crisi e dobbiamo collaborare mettendo insieme le competenze e rinunciare un po' al proprio egoismo che naturalmente è anche abbastanza diffuso qua ognuno vuole essere patrone di se stesso però siamo in Veneto 4 milioni e 500 mila persone in Indonesia 240 milioni, in Indonesia si è comprato adesso l'Inter l'Italia si può comprare, l'Indonesia si può comprare tutto il Veneto perché loro sono 240 milioni dobbiamo accettare la realtà però sfruttare anche per i posti di lavoro qua però per questo dobbiamo ancora aprirci di più e concludiamo dicendo dove si possono trovare informazioni se si vuole andare a lavorare all'estero e che consigli dare a che intenzioni di partire allora per prima direi andare sul nostro sito www.aerocultura.it lì troviamo una infinità di informazioni per chi vuole fare volontariato, stage, studio all'estero, lavoro all'estero, lungo stagionale e anche tanti consigli per esempio come evitare gli errori nella scrittura della candidatura con il comune nel progetto cercando il lavoro ogni mese noi teniamo seminari su come andare negli Stati Uniti come fare alla ragazza alla pari, trovare un lavoro stagionale questi sono vari modi di informazione, di conferenza, anche abbiamo consulenza a disposizione basta di andare sul nostro sito e prendersi un po' di tempo per capire la varietà delle opportunità e vedere che cosa Aerocultura mette a disposizione Perfetto, noi ringraziamo il dottor Fassa per tutti gli utili consigli e le indicazioni che ci ha dato per averci rotteggiato anche questo panorama e ringraziamo voi per averci seguito, arrivederci Grazie, mille grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi